Buongiorno a tutti, che il Signore ci benedica e ci accompagni in questa nuova giornata che desideriamo iniziare aprendo la parola in Isaia capitolo 41 di cui leggeremo il versetto 10 che dice non temere perché io sono con te, non smarrirti perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Credo che questo è un versetto che dovremmo tenere sempre a mente, dovremmo impararlo a memoria proprio per non dimenticare questa meravigliosa promessa di Dio. Ci sono vari verbi che vorrei analizzare con voi, prima di tutto il versetto inizia con non temere, parafrasando potremmo dire non avere paura. In effetti nei momenti difficili la paura è il primo sentimento che si scatena nel nostro animo, ma il Signore è con noi, quindi possiamo godere della sua pace. Inoltre la paura ci porta a fare scelte affrettate, spesso poco ponderate, che peggiorano la situazione. Il Signore invece ci dice non smarrirti, cioè non perdere la strada perché io sono il tuo Dio, un Dio che comprende le nostre difficoltà e ci chiede di confidare in Lui, sempre, anche quando apparentemente, e ripeto, apparentemente sembra essere lontano. Dovremmo chiederci invece se forse non siamo noi ad essere su una frequenza diversa da quella celeste, ed è per questo che il Signore ci sembra lontano. Allora cari amici, sintonizziamoci correttamente sulle onde radio celesti e facciamo nostra questa meravigliosa promessa del Signore. Amen.